chi è che la signora? Emry Chan! No, chi è che la signora? Emry Chan! Emry Chan ha fottuto gol! GOOOOO! Che seno! Che seno! L'abbiamo pareggiata giocando da schifo! Giocando da schifo! Stiamo facendo schifo, mamma mia! E adesso ne faccio il che non vinci! GOOOOO! Ma scusami eh! Rigore! 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 Ha ragione! Ha ragione l'arbitro! Mi rimangio tutto quello che ho detto sull'arbitro di Napoli! E' bravissimo! E' bravissimo! No, fammi vedere però adesso a parte gli scherzi! Cioè io ho visto Cansello andar giù in una maniera innaturale! Eh cazzo dai guarda come lo tiene! Non c'è niente da capire! L'ha tirato giù il rigore! Eh cazzo! Ma non lo so! Oh che roba! Ma non c'è niente da capire! Allora, è un gioco diretto da esposizione! Allora, non c'è niente da capire! Non c'è niente da capire! Adesso dovrà verrà valutata alla pare della situazione! Non c'è niente da capire! Guarda! Gioco il suo lavoro! Continua un nuovo progresso nei giocatori della Lazio! Credo ovviamente che ci sia in consulzione il centro! Rigore! Guarda! 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 a me sembrava nettissimo poi vabbè altrimenti altrimenti vabbè Ronaldo per favore dire una canela da in centro che ti segna gol 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 gliela metti sull'acqua metti sull'acqua mamma mia mamma mia metti sull'acqua vai Andrea vai cazzarona mamma mia devo dire una canela di centro del segno si si è finita tu hai recitato bugiato ma va bene così ma va bene così si vince la lì e andiamo vieni che partita cazzarola che partita che partita